La nuova legge sui trabocchi innesca un botte risposta tra la regione Abruzza e la sovrintendenza a replicare il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guirino Testa, tra i firmatari della norma che porta a 210 metri quadrati la superficie dei ristoranti con vista mare. Testa, l'intervento della sovrintendenza in qualche modo interferirà sul provvedimento della regione sui trabocchi? Io mi auguro di no perché bisogna che ci sia un'ampia convergenza, un'ampia collaborazione dove dobbiamo sapere che ognuno deve fare il proprio ruolo. La regione ha il potere legislativo, la sovrintendenza ha il potere di valorizzare, di controllare, di archiviare tutto ciò che riguarda la tutela storica delle nostre infrastrutture, le nostre strutture, però noi riteniamo che la regione Abruzzo oggi ha voluto, dal momento in cui si è insediata, colmare un vuoto normativo che esisteva da ormai oltre 25 anni per dare regole certe, standard certi ai traboccanti. Non si parla di nessun tipo di condono, nessun tipo di dare la possibilità ai furbetti di fare qualcosa in barbara legge, ma vogliamo solamente che ci siano delle regole ben precise per potenziare un sistema turistico fondamentale che rappresenta il volano non solo di quella parte della costa, ma di tutto l'intero Abruzzo. La proposta di legge, lo ricordiamo, fissa i parametri tecnici dei trabocchi che dovranno prevedere 160 metri quadrati calpestabili e 50 per i servizi tecnici, con una presenza massima di 60 persone contemporaneamente. Dopodiché sarà previsto un intervento legislativo che preveda un testo unico necessario a consentire l'utilizzo dei trabocchi anche per la pesca con una disciplina legislativa più organica rispetto a quella attuale. La legge regionale fissa dei criteri, degli standard, poi ogni comune dovrà recepire la legge e in base alle proprie disposizioni far valere questa legge. Quindi questo è un primo iter necessario, ripeto, per dare regole certe, per dare la voglia a chi vuole fare attività di imprese in maniera chiara, seria, e quindi offrire degli standard qualitativi maggiori ai tanti turisti regionali, nazionali, ma io direi anche europei che vengono in questa parte del nostro Abruzzo straordinaria.